Nuove norme per agricoltura e artigianato Il 22 aprile è stato commemorato in aula l'ex consigliere regionale e sindaco di Mondovì Bartolomeo Martinetti, scomparso il 6 marzo. Il consiglio regionale ha poi approvato nuove disposizioni per l'agricoltura con ulteriori misure contro la flavescenza dorata. Dopo le modifiche alla legge sulle attività artigianali, approvate dalla terza commissione riunita il 19 aprile in sede legislativa, scompare l'albo delle imprese artigiane e sono soppresse le commissioni provinciali. Festa della liberazione Il consiglio regionale partecipa alla fiaccolata organizzata in occasione del 25 aprile e promuove con il Comitato Resistenza e Costituzione lo spettacolo Musica e Teatro per la Resistenza al Museo Diffuso. Esibizioni dell'Accademia dei Folli con Lettera alla Vita, se il cielo fosse carta, della compagnia Marco Gobetti con il monologo 1863-1992 di Giovanni Inoltre e di Fabio Caucino con testi originali tratti dal suo ultimo album Io Cambio. Mostra e vitrine Realizzato in occasione del 25 aprile il progetto vitrine alle radici della democrazia espone opere delle artiste Paola Anziché, Jelena Arladilov, Sara Enrico, Ludovica Carbotta e Daphne Boggeri. I lavori rimarranno visibili fino al 9 giugno in 5 luoghi simbolo della regione. A Torino, a Palazzo Lascaris, alla Galleria d'Arte Moderna, al Museo Diffuso della Resistenza, a Cuneo, al Centro di Documentazione Territoriale e a Verbani, a Fondotoce, alla Casa della Resistenza. Consulta dei Giovani Nell'Assemblea Generale della Consulta dei Giovani è stato eletto Cristiano Liardo come componente dell'Ufficio di Presidenza, in rappresentanza dell'Associazione Consumatori Piemonte. Dopo le votazioni, la consulta ha approvato il piano di attività per il 2013. Primo appuntamento è il 9 maggio, a Palazzo Lascaris, per il convegno Minori e Informazione, a cui interverrà anche Don Luca Peiron, delegato del Vescovo di Torino per la Pastorale Giovanile. Gatti da ammirare La mostra che la Biblioteca della Regione propone fino a fine maggio è intitolata Attenti ai Gatti, gatti da ammirare e da collezionare. Esposti in rassegna oggetti provenienti da luoghi vicini e lontani, da tempi prossimi e remoti, realizzati con materiali poveri e preziosi, con un unico denominatore comune, il riferimento ai gatti e al loro mondo. Sempre i gatti sono anche l'argomento intorno a cui ruota la serie di conferenze previste per il mese di maggio. Corsisti Cifo Hill a Palazzo Lascaris Ricevuti a Palazzo Lascaris i corsisti del Master in World Heritage and Cultural Project for Development del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Cifo Hill. Agli ospiti stranieri, accompagnati dal responsabile del programma Imprese, Microfinanze e Sviluppo Locale, Peter Tom Limson, è stata illustrata la gestione dei beni culturali in Piemonte. Agli ospiti stranieri. 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 Agli ospiti stranieri.